...attore. Mancano finanziamenti e sponsor, la marca trevigiana perde una storica tradizione. Quest'anno, dopo oltre tre secoli ininterrotti, non verrà più stampato lo schieson trevisana, almanaco tra i più antichi in Italia, lo storico Fassetta muore una tradizione. Individuato e denunciato dai carabinieri l'automobilista che ieri mattina a Carbonera ha travolto con il SUV una 47enne in bici scappando, è una 64enne. Via libera dalla procura dopo 14 ore di autopsia, confermato l'addio a Giulia Cecchettin, martedì alle 11 a Padova, i funerali in diretta su Antenna 3, affisse le epigrafi tolta al nostro affetto, scrive la famiglia. Nel pomeriggio una grandinata fuori stagione ha colpito alcune zone della marca, da Riese Pio X a Valdo Biadene, allerta idrogeologica gialla per il piave Pedemontano, fino alla mezzanotte di domani. Valanga nel pomeriggio sul passo Giao, 66enne sci alpinista travolto sotto gli occhi del compagno che era con lui, soccorsi difficili per una bufera di neve, nulla da fare per l'uomo. Potrebbe governare benissimo il Veneto, in turno è la nostra regione, il segretario nazionale di Forza Italia lancia la candidatura di Flavio Tosi per Palazzo Baldi e nella marca tra i presenti anche l'assessore regionale Bottacin, sempre più vicino agli azzurri. 72 domande dai fan come gli anni che ha appena compiuto, a Quinto una festa particolare per Red Canzian, lo storico bassista e cantante dei Poo. Già tantissimi video dei vostri presepi arrivati in redazione, da stasera comincia il nostro viaggio tra le natività realizzate da voi telespettatori. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 che parte da una tradizione che purtroppo dopo tre secoli si interrompe, lo avete sentito. Mancano finanziamenti e sponsor e dunque la marca trevigiana e il mondo contadino perdono una storica tradizione. Non verrà più stampato lo schieson trevisan, vale a dire il pronostico di Beppo Gobo da Casier. In base alle notizie che circolano nel Treviso pare che a un certo momento quest'anno sia sospesa l'edizione del 2024 dello schieson trevisan dopo 305 anni che viene sistematicamente fuori di anno in anno. Dopo più di tre secoli finisce la storia di uno degli almanacchi lunari più antichi d'Italia e non perché il Beppo Gobo da Casier di turno non voglia più scriverlo. È fonte sicura, sì. Io non è che mi invento le cose. Ma è vero che è proprio Beppo Gobo che le ha parlate? Eh sì, eh sì. Pare che da Casier sia arrivata questa voce. Il problema sono i finanziamenti. Non ci sarebbero più sponsor disposti a coprire le spese di stampa perché il rito del pronostico è gratis, visto che da sempre è un orgoglio perché è stato scelto nel portare avanti questa plurisecolare tradizione. Ma allora lanciare una sottoscrizione per riuscire a stampare questo schieson? Non lo so, io non mi occupo di queste cose. Non so chi sia il proprietario, anche se è certo che lo schieson passava come una dinastia da Beppo Gobo a Beppin Gobo a Beppetto a quel che ti voglio. Perché da Serena a Argenti a Tomaselli, detto Caffè Nero, a Beppo Mofioli siamo arrivati a Lele Bellò che in questi ultimi 40 anni si è occupato di fare schieson Trevisan. Non so quello che stanno se Beppo, se questo o se que altro, ma un Beppo se lo trova, vovendo, c'è la volontà che manca. Ma non è l'unica brutta notizia sul fronte delle tradizioni popolari. Anche Giorgio Libralato ha deciso di mollare. Certe decisioni che si stanno prendendo, come per esempio fermare per un anno il centro della civiltà contadina di Santa Cristina, il Tiveron, per conto mio è un errore fondamentale. Per il professor Fassetta sono tutti segnali di una civiltà che rischia di scomparire e con essa ha anche i valori da trasmettere alle nuove generazioni. No, la storia deve continuare a essere trasmessa perché attraverso la conoscenza di quello che è accaduto prima che andiamo avanti, se non abbiamo una base di partenza non siamo in grado neanche di muoverci. Veniamo alla cronaca adesso. Tracce della vettura e filmati di alcune telecamere. Così i carabinieri sono risaliti velocemente al pirata della strada che ieri mattina ha rischiato di uccidere una donna in bicicletta a Carbonera. È durata poche ore la fuga dell'automobilista che aveva investito la 47enne in bicicletta a Mignagola di Carbonera scappando e lasciando la donna ferita a terra. I carabinieri di Roncada hanno individuato e denunciato un 64enne straniero che si era allontanato alla guida di un SUV. A inchiodarlo alcune tracce del passaggio della vettura nel luogo dell'incidente e i filmati di alcune telecamere in zona che hanno ricostruito la presenza dell'uomo in quel momento lungo la via. Il 64enne ora deve rispondere di fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso. Fortunatamente la ciclista ha rimediato pochi giorni di prognosi in ospedale. E continuano le ricerche di Diego Perocco, il 60enne consulente finanziario di Castelfranco che si è allontanato giovedì dal luogo di lavoro e non è più tornato a casa. Perocco è alto circa 1,75 m, di corporatura magra, carnagione chiara, ha capelli corti, castano scuro e occhi verdi. È privo di tatuaggi o segni e cicatrici. Al momento dell'allontanamento indossava una camicia azzurra, maglione marrone chiaro, pantalone marrone, giubbotto blu. Chiunque lo noti, lo ha visti o possa riferire naturalmente informazioni utili ai fini delle ricerche che sono attualmente in corso, è pregato di contattare prontamente il 112. Ultima pagina è arrivata nel pomeriggio la conferma dei funerali di Giulia Cecchettin il 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova dove questa mattina sono stati installati i maxi schermi. La ragazza è risultata essere stata uccisa con 26 coltellate. Il tuo sorriso, il regalo più bello, il tuo amore, un messaggio per il mondo. La frase che accompagna l'epigrafe di Giulia Cecchettin affissa oggi a Vigo Nuovo il paese dove è cresciuta la giovane. Giulia che con immenso dolore è stata tolta il grande affetto della sua famiglia. Le parole scelte da papagino per annunciare la data dei funerali confermati per martedì 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Due i maxi schermi già montati per consentire alle oltre 15.000 persone previste di partecipare all'ultimo saluto. Uno sul Sagrato e uno in Prato della Valle. Il nulla osta l'esecui dopo la lunga autopsia sul corpo della 22enne laureanda in ingegneria. 14 ore, l'esame autoptico si è concluso dopo le 23.30 di venerdì. Un tempo così lungo dovuto al gran numero di lesioni di arma da taglio riscontrate sul corpo di Giulia che hanno richiesto molti accertamenti da parte dei periti di parte di quelli incaricati dalla Procura. Le cause della morte dovute proprio alle coltellate, in particolare una al lato sinistro del collo che hanno provocato il dissanguamento e non al trauma cranico riportato dalla giovane dopo la caduta a terra nella zona industriale di Fossò dove erano state riscontrate vistose tracce di sangue. Infine l'esame autoptico non avrebbe rilevato tracce evidenti né sulla bocca né sulle mani di Giulia di legature con lo scotch. Un pezzo di nastro adesivo con tracce di capelli era stato repertato proprio nel luogo della seconda aggressione alla giovane. La ragazza dunque potrebbe essere stata colpita a morte con il coltello ritrovato nell'auto di Filippo Turetta dopo essere stata caricata nella macchina dopo l'aggressione a Fossò. Nel frattempo emergono altri particolari del lungo interrogatorio di Filippo Turetta è avvenuto ieri nel carcere veronese di Montorio. L'amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita. Quella sera mi è scattato qualcosa in testa, ho perso la testa. Ha affermato parlando di delitto d'impeto. Turetta ha detto anche di aver commesso un fatto terribile per il quale non ci sono scusanti ribadendo di essere pentito, affranto e pronto a pagare in termini di giustizia. Nel giorno dei funerali della 22enne sarà lutto regionale. Lo attendiamo tutti con pazienza e al tempo stesso con rispetto, fiduciosi e anche con la speranza che un momento come questo, in una città accogliente come a Padova che sa accogliere davvero tutto, perché gli spazi ci sono, le sensibilità possono esserci davvero tutte sia qualcosa che ci aiuterà a uscire più forti e conoscendoci un po' di più. Poi alle 14 a Saonara l'addio privato della famiglia Cecchettin che ha chiesto non fiori ma opere di bene in memoria di Giulia. La caccia ha di prove anche attraverso la presenza di insetti. L'entomologo forense Stefano Vanin, consulente in casi di cronaca importanti come quelli di Elisa Claps e anche Yara Gambirasio, ci spiega come si può adattare un delitto attraverso l'ambiente naturale. In un caso di cronaca ogni informazione e ogni dettaglio servono a comporre i pezzi di un puzzle che alla fine mostrano il quadro completo. L'entomologo forense trevigiano Stefano Vanin spiega come anche gli insetti possono essere utili nella collocazione spazio-temporale di un delitto. All'inizio il corpo della vittima è oggetto di attenzione del medico legale il quale riesce a leggere tutte le trasformazioni del corpo per poter rispondere ai quesiti investigativi soprattutto riguardo la causa di morte e il tempo del decesso. Col passare del tempo invece gli elementi dell'ambiente che insistono che arrivano sul corpo diventano fondamentali. Quindi quando il medico legale non ha più gli strumenti per poter dire qualcosa allora io direi il naturalista in senso ampio che può essere il botanico o nel mio caso l'entomologo possono cercare di leggere gli elementi naturali che arrivano sul corpo e tramite questi dare delle risposte ai quesiti. Nel mio caso sono localmente due che riguardano l'epoca del decesso e un eventuale trasferimento del corpo da un ambiente ad un altro. L'esempio classico è se trovo un cadavere in un bosco che ha degli insetti tipici della città posso dire che inizialmente il suo processo del compositivo era iniziato in città e poi è stato portato nel bosco. L'entomologo non dà risposte sul chi ha commesso un delitto ma aiuta i medici legali a definire il dove e il quando. Nel momento in cui i medici legali non hanno più gli strumenti o meglio i loro strumenti perdono di precisione l'interazione del corpo con l'ambiente nel mio caso l'interazione del corpo con gli insetti può dare una risposta al quando cioè quando un corpo è stato colonizzato agli insetti il che corrisponde più o meno con l'epoca del decesso. Veniamo adesso al maltempo di queste ultime ore che ha portato anche a una inaspettata grandinata di dicembre colpite soprattutto le zone dell'Asolano e della Castellanea in questo video che vedete postato sulla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa la strada imbiancata dalla grandina improvvisa Riese Pio X e poi alcune foto che arrivano da Valdo Biadene e Farra di Soligo il tutto spiegano gli esperti a causa del forte contrasto tra la massa d'aria caldissima per il periodo e la nuova massa d'aria più fredda in arrivo proprio in queste ore intanto la protezione civile del Veneto ha emesso un bollettino che dichiara lo stato di attenzione l'allerta gialla fino alla mezzanotte di domani per criticità idrogeologica nei bacini dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone del Piave-Pedemontano e lo stato di attenzione per criticità idraulica fino alle 14 di domani nei bacini Adige-Garda e Monti-Lessini per il transito della piena lungo il fiume Adige e Livenza-Lemene e Tagliamento per il transito della piena lungo il Tagliamento questa è la situazione andiamo ora all'aumento di contagi e ricoveri per il Covid l'Ulss 2 organizza per l'8 dicembre dunque una giornata festiva una seduta di vaccinazione straordinaria seduta straordinaria di vaccinazioni anti-Covid venerdì 8 dicembre festa dell'Immacolata dalle 8.30 alle 19.30 la sede della Madonnina in via Castellana a Treviso a fronte del continuo aumento di casi di positivi e di ricoveri per Covid in tutto il Veneto l'Ulss 2 della marca ha deciso di rafforzare l'offerta vaccinale organizzando una seduta straordinaria in un giorno festivo per consentire la più ampia partecipazione 900 i posti disponibili oltre un terzo dei quali sono già stati prenotati in poche ore bruciati tutti i posti del mattino di questo Vax Day ad orario continuato si prenota online nel portale dell'azienda Ulss 2 nel quale è possibile prenotare anche l'anti-influenzale che può essere effettuata contemporaneamente alla vaccinazione contro il Covid è in fase di organizzazione un altro Vax Day stavolta d'accesso libero per domenica 17 dicembre nei tre distretti dell'azienda sanitaria con l'individuazione di tre punti d'accesso nei comuni di Treviso, Asolo e Conegliano e altri dati allarmanti sono quelli degli effetti sulla salute dell'inquinamento atmosferico responsabile di almeno un migliaio di morti all'anno nella sola provincia di Treviso e a farne le spese con patologie correlate allo smog sono soprattutto i bambini la denuncia dell'Associazione Medici per l'Ambiente oggi a convegno a Treviso per parlare di consumo del suolo e degli effetti della cementificazione sulla nostra salute Asma, diabete, cardiopatie, cancro l'esposizione agli inquinanti atmosferici rappresenta una minaccia concreta per la nostra salute ed i numeri dell'ultimo report dell'Agenzia Europea per l'Ambiente lasciano poco spazio ad interpretazioni nel 2021 a causa dello smog sono morte in Italia 46.800 persone e a pagare il prezzo più alto sono i residenti nelle regioni della pianura padana almeno un migliaio la stima dei morti nella marca il rapporto tra ambiente e salute è da anni a centro dell'attività di ISD dell'Associazione Medici per l'Ambiente oggi a convegno a Treviso nella sede dell'Ordine dei Medici per parlare di consumo del suolo l'inquinamento atmosferico è senz'altro il più pericoloso tra i fattori di inquinamento per la nostra salute in tutto il mondo ma soprattutto nelle regioni più industrializzate e soprattutto nella zona dove abitiamo noi quindi nella pianura padana nel nord-est dove sia per motivi geografici ma soprattutto per l'affollamento di persone, di case, di industrie di macchine, di strade c'è un aumento di questo smog l'inquinamento è la quarta causa di morte di tutta la popolazione mondiale a pagare il conto più salato in termini di danni alla salute sono soprattutto i bambini sicuramente aumentano i casi di allergie aumentano sicuramente i casi di le frequenze di patologie respiratorie i bambini che vivono in ambienti inquinanti si vede che respirano peggio rispetto agli altri hanno più probabilità di avere asma hanno più probabilità soprattutto nelle fasi acute dell'inquinamento di avere episodi di infiammazione a carico delle vie respiratorie ma purtroppo l'inquinamento ha anche altre conseguenze come ad esempio la pubertà precoce cito solamente ad esempio il problema dell'interferenza endocrina molti inquinanti hanno solo in grado di modificare in pratica per essere molto semplice la funzionalità di alcuni dei nostri ormoni e quindi aumentano anche le patologie legate a problemi ormonali e questo lo vediamo anche nei bambini lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Coste di Maseri funerali di Azzurra Marotta la quattordicenne è morta per un tumore al pancreas contro il quale lottava dal 2019 un lutto che ha colpito tutta la comunità un anno fa nel luglio del 2022 la storia della quattordicenne era finita sulle cronache nazionali dopo l'incontro con il suo idolo eccolo qui Fedez che come lei aveva ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas la foto diventata virale immortalava la famiglia Marotta con Chiara Ferragni e il rapper milanese nel backstage di un suo concerto in Piazza Duomo a Milano noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità torniamo tra pochissimo eccoci di nuovo in onda edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 mettiamo un attimo da parte della cronaca perché andiamo in diretta da Quinto di Treviso dove c'è la nostra Anna De Roberto perché c'è stata una festa davvero particolare per i 72 anni di Red Canziano lo storico bassista e cantante dei Poo Trevigiano naturalmente lo ricordiamo Anna che è lì con Lucio Zanato a te la linea sì eccoci Lina buonasera allora in realtà noi stiamo facendo un blitz perché questa è una festa di compleanno blindata a porte chiuse e dedicata a 250 fan sono qui ci stiamo muovendo tra di loro e facciamo proprio un blitz cioè raggiungiamo Red Canziano mentre sta firmando le copie del suo DVD eccolo qua Casanova opera pop allora abbiamo fatto un'incursione nella sua festa di compleanno grazie allora una festa di compleanno particolare perché lei ha scelto di incontrare 250 fan e di rispondere a 72 delle loro domande purtroppo ho 72 anni e quindi ho scelto 72 domande e devo dire che è stato bellissimo interessante ma soprattutto abbiamo impostato questo incontro al di fuori di qualsiasi rapporto artista pubblico abbiamo abbattuto ogni tipo di barriera non c'era un telefonino acceso neanche per fare le riprese ognuno di loro ha visto e ha seguito l'incontro attraverso i suoi occhi abbiamo parlato abbiamo raccontato in base alle loro domande io ho cercato di dare delle risposte che in qualche maniera spiegassero cosa cosa penso cosa sono cosa voglio cosa mi piace e quindi è venuto fuori un incontro di umanità bellissimo quali sono le domande le curiosità che l'hanno colpita particolarmente si tratta di persone che la seguono da tanti anni ma insomma c'erano domande davvero molto differenti tra di loro sì ma c'erano delle domande di ogni tipo per cui dall'ultima che è una domanda pazzesca che era sei felice e io ho risposto che in un momento come questo sì sono felice perché sono attorniato da gente meravigliosa che mi vuole bene e poi domande sulla musica domande sulla vita domande su come vorrei essere stato se non fossi stato quello che sono cosa avrei voluto fare da grande tante cose molto interessanti è venuta fuori una bella umanità poi ero aiutato da una signora che mi faceva le domande che era fortissima che era lei sì perché siamo stati eravamo proprio noi sul palco ad intervistare Red Canzian nella sua treviso e tra l'altro nella sua treviso tra queste 250 persone c'erano persone che arrivavano addirittura dalla Sardegna dalla Sicilia addirittura dall'Inghilterra sì è fantastico perché siamo siamo fermati a 250 perché lo spazio era da 250 persone ma potevamo arrivare a mille e c'è gente che ha preso aerei i treni e dormono qui in questo albergo stanotte per riuscire a seguire la cosa perché adesso noi abbiamo fatto l'incontro quello serio dove ci ha detto cose molto importanti adesso di là c'è una cena pazzesca con una torta che mi ha fatto Ernst Knam di sei piani una torta pazzesca per 250 persone per cui andremo di là a bere e ubriacarci col Prosecco Doc e saremo felicissimi una tu per tu praticamente Lina con tanti suoi fan che lo seguono da una vita e che appunto sono arrivati veramente da tutte le parti d'Italia per seguirlo il momento delle domande poi il momento della convivialità insieme quindi insomma un artista un artista che come dire ha esportato il nome di Treviso in tutto il mondo che però ha voglia di passare tanto tempo e di essere vicino alle persone che lo sostengono io amo la gente e non avrei scelto questo mestiere se non amassi la gente amo la mia terra perché secondo me mi ha plasmato in un certo modo e se sono così lo devo anche alla mia terra a questa lezione che il Sile col suo scorrere lento riesce a trasmetterti e me l'ha trasmessa e me l'ha trasmessa fin da bambino insomma io oggi ho passato una giornata bellissima a due giorni dal mio compleanno però è stato cioè è stato quell'abbraccio d'amore che io volevo creare tra me e il pubblico che che non c'entra niente con l'abbraccio che il fan vorrebbe o ti chiede il selfie per portarsi a casa del trofeo oggi i trofei non servono a nessuno qua dentro c'erano soltanto scambi umani di bellissima umanità pulita l'ultima domanda ha dato anche qualche anticipazione sui suoi progetti del futuro le possiamo dare anche ai telespettatori allora progetti del futuro lo dico piano perché mia moglie si comincia a preoccuparsi se io parlo di progetti del futuro perché non sto fermo un attimo però insomma sto pensando sto pensando a un libro che sto preparando e l'incontro di oggi è stato un bellissimo serbatoio di idee per questo libro come segnali come input che mi sono arrivati e poi va bene e poi navighiamo a vista la vita è bella e va vissuta ogni attimo grazie allora buona continuazione festa di compleanno di Red Canzana in cui ci siamo permessi insomma questa incursione l'abbiamo portata anche ai telespettatori ecco sono arrivati i fiori i girasoli per Red e le rose alla moglie e le rose alla moglie bravi che bello grazie ragazzi grazie i girasoli i fiori del nostro matrimonio bellissime bellissime immagini i fiori che sono davvero di grandi auguri auguri da parte nostra naturalmente a Red Canzana grazie a Anna De Roberto e Lucio Zanato allora noi veniamo a un incontro di altro genere questa mattina siamo alla politica Vittorio Veneto tappa nel tour Veneto del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che lo sapete è anche vicepremier era lanciato di fatto la candidatura alle elezioni regionali di Flavio Tosi era presente l'assessore regionale Bottacin uno dei leghisti che potrebbe passare proprio tra le file degli azzurri vediamo Flavio Tosi è certamente nella rosa di Forza Italia il candidato che potrebbe governare benissimo il Veneto l'investitura arriva dal segretario nazionale di Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani che lancia la candidatura dell'attuale coordinatore regionale azzurro Tosi in lizza per la successione di Luca Zaia nel 2025 abbiamo tanti nomi da offrire ai nostri alleati aggiunge Tajani non poniamo veti ma non accettiamo veti nella tappa a Vittorio Veneto anche una finestra sull'autonomia procedono avanti di pari passo e noi ci auguriamo di poterle portare a termine in tempi più rapidi possibili la due giorni in Veneto di Tajani gli incontri con le categorie confermano che qui Forza Italia vuole contare e che stia diventando sempre più attraente rispetto a chi non si riconosca più nella Lega lo dimostra la presenza seduto in prima fila tra Tosi e il coordinatore trevigiano Fabio Chies dell'assessore regionale Gian Paolo Bottacin uno dei ribelli del Prato di Pontida e c'è anche l'europarlamentare Gian Antonio Dare che con Matteo Salvini non ha decisamente feeling Gian Paolo Bottacin Tony Dare e altri sono persone che hanno competenza amministrativa hanno governato stanno governando sanno governare e quindi Forza Italia rispetto a persone di questo calibro sta a loro scegliere io spero che vengano ovviamente proprio perché li conosco bene sono amici e sono persone capaci Nuova inaugurazione veniamo al capoluogo a Treviso in Piazza Vittoria area che si sta rilanciando ma il pensiero del cantiere del park interrato fa dire all'ASCOM procedere per gradi con questi lavori Il cantiere è un'incognita nel senso che spaventa non dobbiamo spaventarci però dobbiamo avere molta attenzione è un pensiero da cui non si può prescindere a ogni inaugurazione in Piazza Vittoria quello del cantiere per il nuovo park interrato progetto che il comune è determinato a portare avanti e per la cui realizzazione serviranno due anni di lavori in piazza si stanno insediando nuove attività da ultima in ordine di tempo la filiale del centro storico della banca Prealpi San Biagio con grosse aspettative in termini di accessibilità Dovemo essere presenti con una struttura importante questa rappresenta proprio la soluzione migliore è anche una soluzione che possa essere fruita da parte dei cittadini attraverso appunto in futuro abbiamo detto che ci saranno dei parcheggi maggiori ci saranno maggiore facilità di accesso Ma i due anni di cantiere restano come dice Capraro dell'ASCOM un'incognita per il referente dell'associazione commercianti importante sarà procedere per gradi lavorare a lotti a comparti non bloccare tutta la piazza per realizzarle un pezzo alla volta credo che possa essere una soluzione studiare una viabilità alternativa per evitare di congestionare il flusso che è importante in questo tratto credo che sia un altro aspetto che vada condiviso con il comando dei vigili poi bisogna convivere con i lavori e bisogna vivere e lavorare durante i lavori quindi troveremo le soluzioni più opportune le moderne tecniche di costruzione limiteranno di molto garantisce il sindaco l'impatto del cantiere in ogni caso il comune è pronto a sedersi a un tavolo con i commercianti nelle soluzioni preliminari che stiamo analizzando addirittura non viene nemmeno interrotta la circolazione dei mezzi quindi capite quanto meno invasiva è l'area di cantiere e comunque siamo anche pronti a dialogare insieme ai commercianti per valutare eventuali danni dovuti alla presenza del cantiere chi è agguerrito contro questo Parc Vittoria è il Partito Democratico scelta miope ribadisce il consigliere comunale Zabai esborso economico esorbitante questo progetto non è più un progetto a servizio della città è la città a servizio del progetto una scelta miope dal punto di vista viario e ambientale è per nulla conveniente dal punto di vista economico se Cassugana tira dritto sulla realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Vittoria il Partito Democratico è sempre più agguerrito Marco Zabai consigliere comunale DEM trova inspiegabile che mentre capoluoghi come Padova Venezia e Verona vadano verso scelte di mobilità green Treviso incentivi l'uso delle auto in centro storico affidando per decenni il nuovo park a una società privata parliamo di un parcheggio che sarà il più costoso della città di Treviso parliamo dai 3 euro l'ora 430 posti auto quando a 100 metri c'è il metro park che non è di gestione del comune di gestione di RFI però sono anche lì 100 metri di distanza 400 posti auto a 1 euro e 20 l'ora andando a completamente snaturare una piazza rendendola per chissà quanto tempo inagibile con delle gravi conseguenze anche per i commercianti della zona per andare a togliere 70 stalli di auto che potremmo tranquillamente togliere per rafforzare invece un sistema di parcheggi fuori dalle mura del centro storico c'è poi l'aspetto economico sottolinea nuovamente Zabai un intervento dice dal costo esorbitante 33 milioni di euro vuol dire che ogni posto auto di Park Vittoria ne costrà 80 mila cioè 33 milioni per 400 posti auto 80 mila euro a posto auto con la stessa cifra potevamo fare tre parcheggi multipiano al di fuori delle mura parliamo della via del mare via del mare a pagamento i sindaci di Sileron Cade Monastier nel Trevigiano e Meolo e Fossalta di Piave nel Veneziano presentano ricorso al Tar abbiamo contrastato il progetto sul piano politico lo contrastiamo adesso anche sul piano giuridico via del mare a pagamento arriva ricorso al Tar portato avanti dalle amministrazioni comunali di Roncade Sile Monastier nel Trevigiano Meolo e Fossalta nel Veneziano un fronte compatto nel dire no alla realizzazione del project financing che trasformerà la Treviso Mare in superstrada a pagamento uniti in questa battaglia che conduciamo già dal 2010 perché abbiamo da subito contrastato l'idea del project financing la Treviso Mare è una strada pubblica costruita con i soldi dei Veneti e pubblica deve rimanere in modo da consentire il libero accesso da parte di tutte le persone che lavorano e vivono nei nostri territori e debbano recarsi anche in altri comuni e anche nelle località balneari il timore dei sindaci è quello del traffico che verrebbe a riversarsi sulle viabilità comunali quando la nuova Treviso Mare sarà a pagamento mi riferisco in particolar modo anche per Meolo su un tratto dove contiamo 5 milioni di transiti all'anno e solo la metà di questi transiti si può considerare transiti per vacanze balneari tutto il resto è sicuramente rappresentato da un traffico che attraversa ogni giorno il nostro paese per andare a lavorare e quindi anche il peso del pedaggio inficerà pesantemente sulla decisione poi di ogni singolo automobilista nelle scegliere strade alternative via del mare che terminerebbe alla rotonda frova di Jesolo trasferendo lì continuano i sindaci la coda di auto dirette alle spiagge ha preso del ricorso ribatte l'assessora regionale alla viabilità Elisa De Berti ho sempre detto pubblicamente e anche ai sindaci che nel momento in cui avessimo avuto la convenzione per la via del mare che era da firmare entro fine anno a gennaio avremo aperto i tavoli di confronto per sentire tutte le perplessità se si apre però un contenzioso conclude l'assessora dovremo aspettare l'esito ma ai sindaci non basta a piena disponibilità ad un confronto con la regione Veneto un tavolo da aprirsi prima che avvenga la firma della convenzione e quindi del contratto con la giudicatario la disponibilità ripeto è massima però nel contempo ci cauteliamo anche da un punto di vista giuridico con la notifica di un ricorso veniamo alla rubrica il tuo presepe vi ricordo che potete inviarci i video delle vostre natività su whatsapp al numero 351 1755 340 ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte col telefono in orizzontale specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza se volete i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe noi siamo pronti a ricevere i vostri video e a condividerli insieme naturalmente a tutti voi ogni giorno nel telegiornale e allora cominciamo inizia il nostro viaggio tra i vostri presepi questa sera vediamo le natività realizzate dalla famiglia di Stefano Artuso a Preganziol la famiglia di Luciana Pase di Mareno di Piave il presepe di Silvia da Vittorio Veneto e quello della famiglia Savio da Belluno grazie a tutti 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 continuate allora a inviarci i video dei vostri presepi adesso andiamo alle notizie dal bellunese e allora ripartiamo dalla cronaca perché ha perso la vita lo sci alpinista travolto oggi da una valanga sotto la cima lo schiesoi nella zona di passo Giauda le prime informazioni date dal compagno che ha lanciato l'allarme verso le 14.50 i due sciatori stavano percorrendo in discesa nella nebbia il percorso dell'andata quando dall'alto è avvenuto il distacco che ha investito entrambi lui ha perso gli sci ma è riuscito a rimanere in superficie invece un 66N di Belluno è stato sommerso e trascinato per un centinaio di metri lo sci alpinista ha iniziato subito a cercare l'amico con l'apposito dispositivo lo ha individuato sotto circa un metro e venti di neve ed è strato tentando subito di rianimarlo date le pessime condizioni del tempo che hanno impedito l'intervento dell'elicottero del suo MDP e di Cadore si sono mosse con gli sci le squadre del soccorso alpino di San Vito Cortina, Alleghe Val Fiorentina il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina con il Quad i soccorritori raggiunti due sciatori in località Lavina Bianca in una pausa del maltempo sono subentrati nelle manovre inutilmente la salma è stata caricata sul toboga e trasportata fino al passo per essere affidata al carro funebre l'amico è stato trasportato poi a valle no al Bob fuori dall'Italia e sì piuttosto a Cesana in Piemonte lo ha detto a Belluno il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani pomeriggio nelle terre alte per il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani nella sua agenda le visite al museo dei bellunesi nel mondo e poi a confindustria inevitabile anche se non è sua competenza parlare di Olimpiadi con la grande preoccupazione che Cortina da un pezzo si vede a togliere il Bob senza che le venga assegnate a nessun'altra gara il problema è che qualche cosa non ha funzionato c'erano i fondi c'era il tempo per farlo non ho capito perché non si è lavorato per realizzare l'impianto di Cortina in modo che potesse essere competitivo e potesse essere utilizzato se non si possono fare a Cortina come sarebbe stato giusto fare bisognava fare il tutto per farlo a Cortina allora facciamo un'altra parte in Italia poi si cercherà di compensare in qualche modo Cortina con eventi con iniziative però non ripeto non dipende dal governo dipende dal CIO io li avrei fatti svolgere a Cortina però se non c'è Cortina troviamo un'altra località italiana certamente non all'estero in casa degli industriali dove la presidente Lorraine Berton ha messo nuovamente l'accento sulla questione Olimpiadi minacciando anche azioni legali se non ci sarà una redistribuzione delle gare inevitabile affrontare anche il tema della legge per la montagna dal cui itinere può dipendere il futuro delle terre alte noi stiamo lavorando intensamente abbiamo anche fatto portare alcune modifiche la proposta di Calderoli che riguarda anche le professioni di montagna noi stiamo cercando e stiamo riusciti a far accettare da lui in consiglio dei ministri alcune correttivi per alcune professioni specifiche della montagna perché possano essere riconosciute prima non lo erano ma io sono ottimista e finalmente si dà un segno di grande attenzione alla montagna perché ritengo che le montagne come tutte le aree interne debbano essere curate con la massima attenzione da parte del governo e da parte della politica Silvia Calligaro il nuovo coordinatore della provincia di Belluno per Fratelli d'Italia l'elezione che ha visto Calligaro impegnato come candidata unitaria è avvenuta nel pomeriggio di oggi tra i tanti temi che saranno all'attenzione della sua segreteria quelli infrastrutturali e quelli ambientali senza trascurare ovviamente quelli politici dall'elettività della provincia all'unità del centro-destra Sala Bianchi invece affollata per una importante iniziativa dedicata al fenomeno della violenza contro le donne molte le persone che hanno partecipato a un confronto sostanzialmente privo di formalità contro la violenza sulle donne Questura Prefettura Soroptimist e altre associazioni tutti insieme per parlare di quello che si può fare per arginare un fenomeno che ha drammaticamente preso dimensioni che costringono ciascuno a prestare la massima attenzione occorre tenere presente che è un fenomeno complesso che non può essere risolto soltanto con gli strumenti giudiziari infatti spesso le donne che sono vittime di violenza hanno problemi di altra natura problemi economici problemi di assenza di lavoro di assenza di conoscenza di persone al di fuori del loro nucleo familiare e quindi è importante che la cittadinanza metta a disposizione le risorse che ha anche su alti fronti per poter combattere questo fenomeno drammatico saper ricorrere ai mezzi esistenti questo il primo dovere delle forze dell'ordine e poi essere vicino alle persone in difficoltà anche con l'ascolto e la comprensione bisogna cominciare con essere consapevoli che abbiamo gli strumenti ma dobbiamo essere nelle condizioni di poterli adottare ogni qual volta ci siano i presupposti per far questo è necessario appunto fare rete vuol dire unire tutte le istituzioni anche della società civile che possano segnalare denunciare mettere in condizione le forze dell'ordine polizia e carabinieri di poter adottare i provvedimenti necessari in questo tipo di situazioni un'ultima notizia riguarda il Natale bellunese che entra nel vivo dopo la presentazione di ieri del programma oggi sotto una pioggia già battente che non ha scoraggiato i giocolieri sono state inaugurate le casette di Piazza dei Martiri cuore della socialità cittadina casette ricche di prodotti tipici che si vanno ad aggiungere alla pista di pattinaggio di Piazza Duomo e alle altre iniziative che animeranno la città dal presepe Ligneo al castello fino alla Befana del Vigile che chiuderà questo mese di luminarie e festeggiamenti quindi vedete davvero la città addobbata per le festività di fine anno allora noi ci fermiamo qui io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia adesso le previsioni del tempo come sempre vi auguro una buona domenica arrivederci società agricola torresan dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello solo carne e salumi genuini ben trovati al meteo l'anticiclone guadagna terreno favorendo un miglioramento sul nostro territorio l'influsso di aria artica renderà però il clima gelido vediamo insieme il dettaglio sul veneto la grafica di domenica 3 dicembre evidenzia un ampio soleggiamento e un cielo sereno attenzione a possibili gelate notturne le temperature saranno in sensibile calo minime sotto zero praticamente ovunque massime comprese tra 3 e 8 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui tanto sole cielo in prevalenza sereno con possibile residua nuvolosità al mattino farà piuttosto freddo con temperature minime tra meno 1 e 3 gradi massime sui 5 e 6 all'incirca infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove è previsto molto sole con cielo sereno o al massimo velato temperature minime ampiamente sotto zero massime sui 3-4 gradi dal meteo è tutto vi do appuntamento al prossimo aggiornamento Società Agricola Torresan dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello solo carne e salumi genuini a Grazie a tutti.